Oggi i volontari della campagna Io non rischio incontreranno i cittadini in oltre 300 comuni e in 500 piazze digitali. È l'occasione per promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali che colpiscono l'Italia, in particolare terremoti e alluvioni. E per illustrare le buone pratiche da adottare per ridurre i rischi. Si tratta spesso di semplici accorgimenti. Cosa fare in caso di allerta? Come riconoscere un'area a rischio? Come rendere la propria casa più sicura? E come prepararsi a un'emergenza? Gesti piccoli ma che possono salvare le vite. In Italia oltre il 90% dei comuni ha aree esposte al pericolo di alluvioni e frane. Il 41% della popolazione risiede nelle zone a più elevata pericolosità sismica. I danni causati dalle catastrofi naturali non si possono azzerare, ma si possono ridurre e si possono gestire. Per farlo è necessario l'aiuto e la preparazione di tutti. Il Servizio Nazionale della Protezione Civile da anni è fortemente impegnato sul fronte della prevenzione. Studia e analizza i fenomeni naturali. Individua gli interventi strutturali per ridurre rischi sul territorio. Pianifica come meglio fronteggiare le calamità. Voglio ringraziare il Dipartimento della Protezione Civile insieme a tutti gli altri organizzatori e promotori di questa giornata e i tanti che hanno dedicato e dedicheranno oggi il proprio tempo e le proprie energie a questa importante iniziativa. Voi volontari siete la forza silenziosa dell'Italia che risponde ogni volta che c'è bisogno. L'Italia vi ammira e oggi vuole imparare da voi. Grazie.